che vogliamo dire di un'altra ennesima prestazione decente di questa squadra ormai io manco le sto vedendo più le partite da Lazio ormai quest'anno veramente questa squadra non ha idea, non ha un gioco ma secondo me c'è qualcosa che non va tra la squadra, l'allenatore e il presidente perché non è possibile che tu per 90 minuti non fai niente, non riesci mai a concludere l'azione un sacco di passaggi, diversi disimpegni, è diventata una squadra veramente cioè giochiamo da provinciale, questa squadra non ha un carattere stasera è l'ennesima dimostrazione che quest'anno stiamo andando veramente male cioè non c'è il gioco dell'anno scorso cioè questa squadra non riesce a dare carattere in campo cioè oggi abbiamo subito il gol dopo 24 secondi all'inizio della ripresa proprio con la squadra che non è proprio entrata in campo cioè proprio sono rimasti tutti a dormire negli spogliatoi siamo rientrati in campo dopo 24 secondi e abbiamo subito il gol complimenti veramente per la squadra quest'anno veramente stiamo facendo schifo e secondo me martedì col Feyeno sarà un'altra sconfitta perché questa squadra veramente non ha dato cioè va a fasi alterni ma fa prestazioni buone dopo fa una partita buona poi due ne rifa male cioè di che stiamo parlando quest'anno purtroppo non la vedo bene cioè infatti io la razza da un po' non lo sto vedendo cioè se la guardi ti viene solo nervoso e basta è inutile guardare questa squadra che al momento sta veramente facendo schifo e niente perché addirittura un'unica prossima abbiamo il derby ma se questa squadra scende in campo così nel derby ce ne fanno 3-4 sicuro pure Feyenoord Feyenoord martedì ce ne fa altri 3 se noi entriamo in campo con questo atteggiamento rinunciatario proprio vabbè io mi saluto ma sono veramente preferisco più vedere il Frosino negalazio sinceramente almeno il Frosino gioca a calcio cosa che non io ero niente riesco a vedere più le partite del Frosino che della Lazio vabbè io vi saluto inesima figuraccia ma io penso che ci sia qualcosa intorno tra squadra, società e allenatore sicuro perché tu non vai a Bologna con un atteggiamento del genere oppure in altre partite io vi saluto alla prossima grazie a tutti